Bella a tutti dal vostro Gaboman Ari eccoci qua un'altra volta io direi che fa un bel video spacchettamento Allora come potete vedere 31.000 e passa GP sono stati accumulati A contratto sempre le competizioni offline come al solito A rica sono veramente semplici e ve fanno accumulare GP che è una meraviglia Poi alla quarta partita naturalmente se la vincete ve da pure la gente Quindi io vi consiglio di farla ci avete tempo fino a stasera perché oggi è mercoledì Domani li tolgono sicuramente o può essere pure che li tengono Boh io non ho capito bene quello che vogliono fare sinceramente Però visto che mo ce stanno approfittatene Dai famose la prima pescata del giorno io direi di andare prima col più scrauso che è quello Eredivisie 3,7% pallone nero mamma mia Provamoci vediamo quello che succede Dai eccoci qua prima pescata del giorno Oh mamma mia tutti argento ci stanno ma che è qua Oh mamma mia almeno ho beccato l'oro e che cavolo Oddio è il portiere Mamma mia che palle ma che c'ha questo in testa E che nome è poi Tenruvelar addirittura 79 di valutazione generale non è pe niente male oh è quasi un pallone nero praticamente Allora se lo teniamo che tocca fa questo pallone nero Comunque è veramente oro colato Tecnica 42 Velocità 35 Fisico 69 Questo da palo a palo ci mette 25 minuti Olandese del NAC Breda 33 anni Alto 1,87 Direi di soffermarci qua Di non pensarci più di tanto Aggiungiamo la membri My Club Pensavo che andava peggio sinceramente Invece oh non è male dai su un 79 Comunque con quelle probabilità di prendere qualcosa di decente È buono Allora io direi di andare su Liga BBVA Che ci dà la possibilità di pescare i giocatori spagnoli Vediamo un po' chi cavolo ci capita Cioè spagnoli da Liga Spagnola Cioè i spagnoli che giocano all'estero non ne beccheremo mai Dai e provamoci 5,6% In gaggio al giocatore si Continuiamo e vediamo chi è quest'altro eh Oh mamma mia guarda dove sta il pallone nero Praticamente sta in mezzo agli argento Oh mamma mia niente Il pallone nero non è È un pallone oro Vabbè oh Meglio oro Che è comunque meglio di silver Di argento Chi è questo? Mamma mia sono tutti uguali oh È Joao Cancelo Ma chi è questo? Mamma mia ma che c'ha in testa? Pare in Super Saiyan pare oh Porca miseria No vabbè un Super Saiyan è meglio sinceramente eh Vabbè 77 di valutazione generale 66 di tecnica 61 di velocità Fisico 47 Portoghese del Valencia Addirittura c'ha solamente 20 anni A me pare che ne dimostra Non so almeno 86 1,80 d'artezza Stile del gioco non definito Ci avemo provato È andata una schifezza Quindi andiamo avanti Aggiungiamo pure quest'altra membri Mi club Ecco qua E mo Ci siamo riposati La cosa che mi interessa di più Italian league Voi direte Perché mi interessa di più? Perché voglio tutti Oh Dai Provamoci 6,4% Aggiungiamo Sì aggiungiamo a membri My club Mamma mia Sto Non so io che cosa posso avere Sti giorni Boh sarà al caldo Che devo dire In gaggio al giocatore Continuiamo E vediamo chi è questo Tanto è totti Sicuro Io schiaccio Eccolo qua Bello che fresco Mo se ferma sul nero E quando mai? Oh Armene oro Vediamo un po' Chi avevo pescato Chi c'è stato E buono di pallone oro Qualche giocatore da Roma Ma chi è questo? Mamma mia Pare il rapinatore Pare Ma chi è? È cileno È il rapinatore cileno 77 De valutazione generale È Orchera Del Parma 26 anni 1,74 D'artezza Tecnica 68 Velocità 62 Fisico 43 Non è malissimo Perché Ve ripeto Con la Novellini Questi sono giocatori Veramente fondamentali Perché li puoi schiaffare Un po' da per tutto Comunque bene o male C'hanno abbastanza spirito De squadra Con l'allenatore Perché sono tutti giocatoretti così E quindi Cioè Le competizioni offline Si vincono abbastanza facilmente Ma io spero che domani Se ne escano qualche argentino Un po' particolare Sarebbe veramente Una cosa stupenda Non lo so io Speriamo che fanno qualcosa di buono Ve farò sapere sicuramente Vediamo quello che ci esce fuori Per il momento Questo ci è capitato Questo ci teniamo Confermamolo Andiamo avanti Aggiungiamo pure quest'altro Essere ai membri My Club Ho adesso 14,2% De probabilità Pallone nero Io direi dei provacce Se ne fanno solo due Perché tre L'avemo già fatte E 10.000 GP Me li tengo Per rinnovare qualche contrattino Qua e là Perché ultimamente Ho quello squadrone che c'ho Non riesco più A rinnovare i giocatori Così facilmente Quindi Captaincy Prima pescata del giorno Paga con GP Conferma E vediamo Chi è questo Prima o poi Lo beccherò Un pallone nero Con sto agente Ne è possibile Che non li becco Belli de casa Eccolo qua Questo è nero Questo è nero Questo è nero Porca puttana Oh ecco Nenartro Tutti con sta faccia Mamma mia Gli hanno cambiato Il colore dei capelli Gli hanno cambiato È sempre lui Eppure dà la pelle È un po' più chiara Di quello di prima Oh è Nolan Mamma mia East London Inglese 32 anni 1,83 Onnipresente Manco fosse il padre eterno Pure lui C'hanno tutti manie Di onnipotenza Sono incredibili Oh 75 De VGG Tecnica 64 Velocità 25 Mamma mia Questo sta sulla barella Sta Anzi Con la barella Va molto più veloce Oh Incredibile 25 A parte che una volta Non ho pescato uno Che mi pare c'aveva 13 Sono rimasto veramente Allibito Com'è possibile Boh Oh a quanto pare Gli fanno così lenti pure Se vede questo veramente Cioè Che vedevo dire Rimane in piedi E in cammina Fisico 76 Comunque Aggiungemo pure quest'altro A membri Mi club Eccolo qua È famose L'ultima pescata del giorno Io ancora so alla ricerca Fino a che non becco Un pallone nero Costo a gente Non me fermo A parte non me fermo Oggi è l'ultimo giorno Poi domani lo levano Quindi che non me fermo Mi devo fermare per forza Provamoci dai Ultima pescata del giorno La seconda con l'agente Cap Tenshi Paga con GP Conferma E vediamo chi è quest'altro Mamma mia Mi capiterà un cavolo De capitano Cioè Per cortesia Mi basta pure Strootman Eccolo 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 Marca miseria Che porca Un'altra volta Se pesca niente Con questi agenti È incredibile Mamma mia Ma chi è Nakamura Porca puttana Ma è Nakamura davvero Oddio Non ci posso credere Non ci posso credere Nakamura Giapponese degli Yokohama F Marinos 36 anni Ancora campa 1,78 Pure quest'altro C'ha maniete Superiorità Verso l'art Incredibile Oh Ma chi è 76 di VGG Tecnica 69 Velocità 40 Fisico 34 Cioè Questo è un soffiatore Dei minestrine De quelli esagerati Questo si mette davanti A tavola proprio E soffia tutte Tutte se le soffia Raffredda tutte Le minestrine De tutti Porca puttana Che cavolo Mannata una schifezza Pure oggi Oh mamma mia Oh Nakamura Addirittura Sono andato a beccare E che cavolo Mannaggia quel porco Tocca tenesse Pure questo Che tocca fa Ah regà Se vi è piaciuto il video Mi raccomando Mettete un bel mi piace Commentate Condividete E iscrivetevi al canale Detto questo Non mi resta che Davvi appuntamento Al prossimo video Vi saluto a tutti quanti Bella regà Ciao Ciao